Buongiorno, buona domenica. Oggi l'ingresso ai siti archeologici è gratuito. Alle mie spalle c'è il foro romano. Vedete le colonne? Ecco, queste, sull'altopodio e in cima c'è la trabeazione. Questi sono i resti del Tempio di Saturno. E invece queste altre tre colonne, questi sono i resti del Tempio di Vespasiano e questo arco a tre fornici è l'arco di Settinio Severo edificato per celebrare il primo decennio di impero di Settinio e racconta la sua vittoria sui parti, gli antenati dei persiani.